Salve a tutti, video estemporaneo per il canale YouTube Marco on the News. Sono appena reduci da un incontro con altri professionisti impegnati nei settori del marketing, della comunicazione. Un'occasione per fare networking professionale, una delle tante, utile chiaramente a chi si occupa di consulenza, ma anche a un manager di un'azienda, utile chiaramente anche a chi si occupa come me di giornalismo per raccogliere, rilevare novità, per ulteriormente individuare i trend in atto in determinati settori delle attività economiche, aziendali, via dicendo. Ecco, il networking professionale tra professionisti impegnati in settori anche differenti, ma comunque sempre attinenti a ciò che accade nella business community, in questo caso italiana, è un valore aggiunto costante da tenere sempre sott'occhio e da valorizzare nel corso delle nostre attività lavorative. Insomma, quindi questo è un invito a non chiudersi mai in se stessi, nel proprio virgolette orticello lavorativo professionale, ma a tenere sempre ben aperti gli occhi e aperte anche le orecchie per osservare e ascoltare tutto ciò che attiene a quello che accade intorno, a quello che in particolare evidenzia anche dei cambiamenti di scenario, questo marketing, comunicazione, produzione, distribuzione e via dicendo. A presto per un altro video, sempre con Marco on the News. Ciao a tutti e buon fine settimana. Ciao.